Il Consiglio Comunale di Barletta anche ieri ha dato indecente spettacolo di sé. Ormai, come il circo di Moir Orfei, passato di recente in città, non delude mai le aspettative di chi vuole divertirsi o disperarsi nel vedere a che livello miserabile si è ridotto. Anche ieri è mancato il numero legale. Anche ieri interi pezzi della maggioranza hanno boicottato l'amministrazione, non approvando un provvedimento importante anche per il proseguimento della consigliatura. Come il bilancio consuntivo, in aula erano infatti presenti solo dieci consiglieri di maggioranza. Due consigli comunali fa sul bilancio di previsione 2016 accade la stessa cosa. Il sindaco fece le sue rimostranze dando ai partiti il consueto penultimatum. Noi dicemmo in tale circostanza che un fatto così clamoroso che avveniva dopo una lunga e stucchevole verifica e il rimpasto della giunta, fatta secondo i desiderata delle forze politiche, significava, se non la morte, almeno il coma della consigliatura. Predicemmo anche che nel successivo consiglio si sarebbero presentati tutti approvando il bilancio per poi assentarsi a quello successivo, cosa puntualmente avvenuta. Ormai giocano con l'accusa pubblica in maniera sfacciata e strafottente, incuranti di stampa e opinione pubblica, in un delirio di potere intangibile giustificato dai positivi risultati elettorali che restano tali nonostante gli scempi commessi e che evidenziano un problema concreto nel rapporto democratico tra cittadini e politica. Ma quello del rapporto perverso tra figure politiche e centri di potere e bacini elettorali è una storia che va analizzata a parte, anche se uno di questi bacini, e cioè la Barsa, è al centro della disputa che ha portato alla debacle di ieri, a decidere di non votare il bilancio, soprattutto PD e area popolare. Del Partito Democratico erano presenti solo tre consiglieri su nove, la peschechera Giuliana D'Amato e Cosimo Bruno. Di area popolare solo uno su cinque, Antonello D'Amato, con il compito assolto, di chiedere la verifica del numero legale con il conseguente scioglimento della seduta. L'input per il boicottaggio e i loro consiglieri di riferimento nel PD, che al solo schioccar delle dita si sono adeguati, lo avrebbero inviato i due consiglieri regionali Menni e Caracciolo, e area popolare molto sensibile ai desiderata di quest'ultimo e che ha dei mal di pancia per suo conto sia adeguata. La cosa tragicomica è che il segretario del PD Ferrara, dopo l'ultimo consiglio con linguaggio renzian-bullesco, sparlava di gomitate nei denti alle opposizioni e di un Partito Democratico fulgido esempio di unità di intenti e proposta politica architrave inamovibile della maggioranza. Un po' di prudenza non guasterebbe nella quasi certezza di essere smentiti nelle settimane successive. Dietro la levata di scudi, come dicevamo, la delibera con la quale saranno rinnovati gli appalti della Barsa e il conferimento ad essa anche del servizio di custodia e pulizia attualmente svolto dalla Pulse Service. Quest'ultimo, tra gli argomenti più spinosi, due le correnti non certo di pensiero ma di potere, sì, tra chi chiede che siano assorbiti i lavoratori dell'attuale gestore e chi è contrario perché evidentemente conta di metterci i suoi. Cascella ieri sera ha diffuso un altro penultimatum. Immaginiamoci sarà un nuovo fasullo ricompattamento per poi tornare punto e da capo. E così dall'inizio della consigliatura e così si continuerà. In medicina si chiama accanimento terapeutico. A volte qualcuno risuscita, magari risuscita l'amministrazione Cascella. La triste consapevolezza è che in queste condizioni, con questi elementi di perenne instabilità, al di là dei limiti e delle responsabilità da cui non è certamente sente anche lo stesso Cascella, per chiunque Barletta elega sindaco i risultati saranno gli stessi. Ormai non resta che tentare provando a eleggere Superman, Tarzan e come ultima carta Rocco Siffredi.